Ciao a tutti, eccoci qui con gli acquisti del mese di aprile Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale A mettere mi piace al video nel caso in cui effettivamente vi piaccia Ditemi quali siano stati i vostri acquisti di questo mese Perché questo è un mese particolare in quanto c'è stata Pasqua E quindi non si sa mai qualche persona di buona volontà Che vi regali de manga, a me non è successo però Può succedere ad altri Prima di concludere vi invito anche a cliccare sul mio link Per quanto riguarda Instagram Perché lì più che altro recensisco sia manga che libri E quindi c'è una risposta, un feedback molto più veloce E adesso possiamo cominciare Cominciamo con la casa editrice della quale ho acquistato meno volumi E questa volta tocca alla planet Allora, cominciamo con l'undicesimo volume di 20th Century Boys Il dodicesimo è addirittura d'arrivo Nel senso che questa volta è stato il codine di Amazon Che non è arrivato in orario Quindi la panini questa volta l'ha scuso E niente, eccoci qui con l'undicesimo volume Il dodicesimo, cioè 21st Century Boys È effettivamente uscito E io spero di averlo nelle mie mani quanto prima E molto probabilmente questa sarà la mia lettura estiva Perché è un'opera abbastanza difficile E tra virgolette anche un po' pesantuccia da digerire E quindi la leggerò in estate Anche perché i volumi sono tanti E quindi la storia è molto lunga Io spero di riuscirci Proseguiamo con uno yaoi Che io personalmente apprezzo Non tantissimo però mi piace Stiamo parlando del terzo volume di No Love Soon Eh sì, questo volume è un bel po' spicy Di storia ce n'è di meno Però vi assicuro che l'ultima parte Sarà veramente veramente bella Anche perché penso e spero Metteranno quella parte degli animali antropomorfi Quella è molto molto carina Comunque per chi ama il genere BL Quindi Voice Love E non è la prima volta che si addentra In questo campo minato Io lo consiglio Comunque alla fine sono quattro volumi Questo è il terzo E secondo me è un'opera cariera Da poter avere in libreria Concludiamo la planet con un recupero Che ho fatto E devo dire la verità Non sapevo di questa pubblicazione Quindi mea culpa Stiamo parlando di Another Monster Quindi dovrebbe essere tipo Il sequel della storia Però ovviamente non si tratta di un manga Ma di una novel Infatti è tutto tutto scritto Tutti i personaggi Ci sono alcuni Alcuni disegni Però principalmente è una novel Anche questa Molto probabilmente La leggerò in estate Quindi probabilmente Il mese di agosto sarà il mese di Urasawa Però poi ne parleremo Comunque questo sicuramente lo leggerò Perché io l'opera l'ho letta Quindi Monster l'ho letto Tutti i 9 volumi E vorrei sapere effettivamente Come va a finire Perché il finale dell'opera Diciamo dell'opera del manga Mi sembra proprio Un serpente che si mangia la coda Quindi sapere che ci sia Probabilmente una vera e propria conclusione Da una parte mi terrorizza Perché vorrei che non sia banale Dall'altra in realtà Mi intriga parecchio Quindi staremo a vedere Ed ora passiamo alle case editrici Dincitrici Di questo mese Perché ho due exe qui La Star Comics E la J-Pop Per quanto riguarda Star Comics Partiamo con Un ritorno di fiamma Perché io effettivamente Amo quest'opera E potete dirmi quello che volete Ma a me piace E stiamo parlando di Demon Slayer Ho comprato sia Il 23 in versione regular Stiamo parlando Dell'ultimo volume Sia il 23 In versione Variant Con lo Shikishi Non l'ho ancora aperto Perché quando arriverò al volume Lo aprirò Momentamente ho in lettura Il volume 22 Ancora Devo finirlo Ce lo devo fare Comunque quest'opera A me piace tantissimo So che uscirà qualcosina Non so effettivamente Che cosa però Non mi sono ancora Ben informata A giugno Quindi sicuramente Continueranno Forse qualche storiella Qualche retroscena O qualche storia Verso scuola Comunque Secondo me è da acquistare Demon Slayer È una garanzia Proseguiamo Con un boy's love Della casa Star Comics Stiamo parlando Del volume 2 Di Lullaby of the Dawn Allora Devo dire la verità Questo volume Non l'ho ancora letto Però devo dire Che è un notato Che la storia Aumenta di difficoltà Nel senso che Non si parla Di un boy's love Dove si dà molta importanza Alla parte spicy Oppure Uno slice of life Slice of life Ce la posso fare a dirlo Ma si tratta Di un deck fantasy Che si lega A uno shonen Quindi secondo me È molto ben fatto Ripeto Io l'ho lesso in inglese E vi dite Di aver avuto molte difficoltà E quindi di conseguenza La sua acquista in italiano Però vi assicuro Che la storia Non è lineare Quindi io la consiglio Anche magari Per chi si approccia Per la prima volta Lo ripeto Secondo me è bel fatto Proseguiamo Con uno degli amori Della mia vita E della mia adolescenza E questa cosa Mi fa scendere un po' La lacrimuccia E stiamo parlando Di Kamisa Makis Volume numero 4 Io quest'opera La amo Ma veramente C'è un insieme Di dolcezza E spensieratezza Perché in un qualsiasi modo Nel volume C'è sempre una scena Che ti fa ridere Ma ridere col cuore aperto Perché è così dolce Così puro Ma così bello Che veramente Non ce la fai Ovviamente ci sono Anche i momenti di riflessione E verso gli ultimi volume E anche un po' di tristezza Perché è la storia Con cui io la conosco Però è davvero bello Sinceramente Se siete giù E volete leggere Un qualsiasi manga Che vi possa tirare su Non è importante Che sia uno shoujo Perché vi assicuro Che la parte D'amore È veramente Poco presente Nel senso Non è così tanto abbondante Né in maniera Eccessivamente descritta Non è fatta davvero bene Noi praticamente Andiamo a seguire Le vicende Di questa povera ragazza Che è Nanami Che è nata come un'umana E si ritrova così In un templio A doverlo Tra virgolette Proteggere Governare E una volpe a nove code Che è Tomoe Che non vuole effettivamente Starla sentire Oppure la reputa Come una bambina Che bisogna seguire Però si renderà presto conto Che Nanami È molto importante E non è solo Una semplice umana È un'umana Che ha dentro di sé Quell'umanità Che molti hanno perso E quella spensieratezza E quella risata Che servono Soprattutto quando si è giù Ed ora proseguiamo Con J-pop L'altra volta Dimenticai Oppure non ricordo Se mi arrivo in ritardo Il diciottesimo volume Di Anako Kun Ebbene Devo dirvi questa cosa Io Anako Sinceramente L'ho quasi dimenticato Nel senso Si mi ricordo In linea generale La storia Ma l'ho dimenticata Perché vi dissi Che lessi La prima parte Quindi tipo Verso il volume 7 e 8 Poi smisi Perché uscivano Molto lentamente I volumi Ed effettivamente Della prima parte Mi ricordo Episodi O cose random Quindi io Farò questa cosa Continuerò ad acquistarlo Perché comunque Lo sfoglio I disegni diventano Sempre più belli E la storia Da quanto ho capito Diventa sempre più seria E poi la leggerò Tutta ad un fiato Io veramente Spero che questo Sia l'arco finale Perché sennò Veramente diventerò Prima vecchia io E poi uscire alla fine Forse Forse Sennò andrà a finire Come Berserk O Nana Ancora peggio Proseguiamo con un'opera Che ho effettivamente In lettura Infatti ho in lettura Sopra di me Il volume numero 6 E invece qui abbiamo Il volume numero 8 Effettivamente acquistato Allora Adesso posso dire qualcosa in più Avendo letto bene adesso I primi 6 volumi Anzi primi 5 Perché il sesto è in lettura Posso dire Che cosa La differenza tra serie tv E manga Allora Mi è dispiaciuto Non vedere quel game Dove si giocava ad azzardo Non ricordo esattamente Il nome del gioco E peccato Perché non l'hanno reso in tv Perché è stato veramente bello Cioè Mi ha costretto a leggere A mezzanotte Cioè a mezzanotte Stavo stanchissima Però volevo finire il volume Perché era bellissimo quel gioco E niente bello Mentre non mi è piaciuto Il primo game Il primo game del manga Che è stato veramente Molto banale Cioè era un tipo Dei quiz Dove bisognava rispondere Se no arrivavano frecce E invece Non sono spoiler Perché alla fine È il primo volume Questo si trova proprio all'inizio Nel primo volume come game Mentre nella serie tv È fatto molto meglio Quindi io non capisco Perché cioè Il game è molto più interessante È molto più Cioè ti fa venire i brividi Non so perché Nel manga Non mi è piaciuto più di tanto Però per il resto In linea generale La serie tv segue molto il manga E devo dire Complimenti all'autore Che col suo tratto Alcune volte Mette delle scene È con dei tratti rapidi Veloci Verso il basso Che sono veramente ben fatti Ti fanno capire le emozioni Quindi se si tratta di rabbia Di tristezza Di rammarico O magari anche In quel momento Di egoismo Quindi è fatto veramente Veramente bene Cioè a me Alice in Borderlands Sta piacendo da impazzire Io ve lo consiglio E continuiamo Con Tokyo Revengers Volume 25 Allora Devo dire la verità Io momentaneamente Sto vedendo la seconda stagione Non mi sta facendo impazzire Come la prima Questo è vero Il manga in realtà Questo volume non l'ho letto Però mi sono spoglierata Quello che accadrà E non sono stata per nulla contenta Però poiché è uno spoiler Perché siamo al volume 25 Ne parlerò in futuro Quando terminerà il manga Quindi vi porterò la recensione Su tutto il manga E su tutto quello che ho pensato Il fatto è che Le scene d'azioni Sono ben fatte Cioè a me A me piacciono Il problema E t'acchemici Cioè io personalmente Non mi è mai capitato Né in quanto lettrice Né di libri Né in quanto lettrice di manga Di detestare un protagonista Cioè per me E da farlo morire Nella prima scena Sotto il treno Cioè per dirvi Ce la posso fare Devo finire questo manga Perché non lo so E t'acchemici il problema A mio parere Poi ne parleremo Seriamente Comunque per il resto La storia è ben fatta I personaggi A parte t'acchemici Sono ben fatti A me piacciono Le situazioni familiari Sono anche molto interessanti E le scene d'azioni Sono veramente ben disegnate E a livello Diciamo Visivo Sono ben fatte A me piacciono Quindi io comunque Ve lo consiglio Concludiamo con un recupero Effettuato In questo caso Penso sia l'ultimo Di Nagabe E stiamo parlando Sempre di un volume Autoconclusivo Che è Monotone Blu Allora Io ho letto Tutto di Nagabe Nagabe o Nagabe E devo dire Che questo Se la gioca benissimo Con la storia principale Ovviamente la storia principale Sta un grottino in su Perché si capisce La difficoltà E l'importanza della storia Ma questo non è da meno Cioè io seriamente Se vi dicessi Iniziate a leggere l'autore Partite da questo Cioè è veramente ben fatto Si parla di bullismo Si parla di diversità In questo caso Tra un gatto E una lucertola Si parla anche di amicizia E anche di scoprire Il proprio corpo Accettare il proprio corpo In questo caso Perché la lucertola Non si accetta Per quello che è A livello fisico E amare poi il prossimo Imparare ad amare Quindi devo dire Questa storia Mi è piaciuta tantissimo È una storia di crescita Ma non solo Ma di accettazione Che deve partire Prima di tutto Da te stesso E poi verso gli altri Il bullismo È un problema serio Che purtroppo Dilaga ancora tuttora Però è bello Anche leggere storie Che ti possano mettere Diciamo Sotto quella luce buona Il fattore O meglio Ti spiega cosa non fare Oppure i campanelli d'allarme Quindi personalmente A me questa storia È piaciuta tantissimo Ma veramente tanto Io la consiglio Veramente Compratela Ebbene sì Siamo arrivati Alla fine di questo video Spero che vi abbia intrattenuto Che vi siano piaciuti I miei acquisti E che soprattutto Voi abbiate fatto Acquisti migliori dei miei O comunque abbastanza belli Fatemi sapere qui sotto Quali siano stati I vostri acquisti Vi ricordo di iscrivervi Al canale Di attivare la campanellina Perché mi fate Veramente tanto felice Voi non lo sapete Ma io sono tanto felice E poi ovviamente Iscrivetevi anche Al mio profilo Instagram Così di avere Così da avere Posso riuscirci Un feedback Più rapido Detto ciò Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao